Siamo a Cologna di Roseto degli Abruzzi con un piccolo ma grande talento del motociclismo italiano. Siamo qui con Stefano Nepa. Ciao Stefano. Ciao. Stefano è appena tornato da una prova molto importante perché lui fra quanto tempo andrai alla Moto3? La prima gara ad aprile a Valencia. Quindi hai fatto queste prove a Maggione. Sì a Maggione. E lì hai provato la moto con cui andrai a gareggiare a Valencia. Quindi quali sono le sensazioni su questa nuova moto? L'avevi già portata prima o è la prima volta che sei salito su una moto del genere? Era la prima volta che sono salito su questa moto e le sensazioni sono state subito molto buone e mi sono riuscita ad adattare subito sulla moto e mi piace molto e non vedo l'ora di iniziare. Quali sono le differenze con le moto che hai portato prima? Con la Premoto 3 che tipo di moto era quella lì e quali sono le differenze con la moto che andrei a portare ora con la Moto3? Allora la Premoto 3 era sempre una 250 però in questa categoria nella Premoto 3 si dovevano togliere un paio di cavalli più o meno da 50 che è una 250 normale bisogna andare ai 35 cavalli e invece questa qui che è proprio una 250 vera Moto3 ha intorno ai 53-55 cavalli cambia molto la potenza della moto la spinta e anche la velocità. Quindi stiamo parlando di una moto che è molto diversa da quella che portavi prima? Sì molto diversa sia di motore che di telaio molto meglio di telaio diciamo una moto da gran premio è vero? A Valencia che andrei a correre con questa nuova moto? La Moto3 è una cosa importante, la Moto3 è una cosa che noi guardiamo alla televisione in genere. Le prime volte sarà un po' non è come sempre con la Premoto 3 che mi sono abituato però ci farò l'abitudine anche con questo dai. Ok quindi tu ovviamente hai 14 anni quindi fai la vita di un normale 14enne ora come fare a conciliare la vita di un 14enne che scuola stai facendo adesso? L'ITI. Quindi come fare a conciliare l'ITI con questa nuova avventura nella Moto3? Guarda c'è stato sempre questo problema da quando ho iniziato con le mini moto e le mini GP però lì diciamo non era una cosa così seria come è diventata adesso e diciamo mi devo impegnare adesso che ho meno impegni, le gare adesso qui non ci sono in questo periodo quindi mi devo impegnare in questo periodo e poi mi dovrò concentrare un pochetto di più sulle gare. È bello vedere come a Roseto degli Abruzzi con tanti talenti che abbiamo avuto in questi anni ci sono ragazzi che continuano a studiare e parallelamente fanno una carriera che è di livello nazionale perché tutta Italia ti andrà a vedere adesso con la Moto3. C'è una domanda che ti devo fare tutti se la stanno chiedendo. Hai rapporti con la VR46 o con Valentino Rossi? Hai già avuto dei rapporti? Se sì quali sono stati? Allenamenti insieme alla VR46, insieme a Valentino e tutta la sua squadra, i ragazzi. Quest'estate a Misano dove la federazione aveva organizzato dei test a proprio a Misano insieme a loro e giravo più o meno due ore giusto per fare allenamento. Sono state delle giornate molto belle e in una di queste giornate sono riuscito a fare una foto con Valentino e è stato molto bello. Pensi sia molto difficile entrare nel range? È Valentino che deve chiamarti, dice vieni al range, vieni a fare due giri con me, con tutti i ragazzi, perché se succede quello è molto più bello che ti chiama lui. Noi auguriamo che questa cosa succeda e che succeda anche molto presto. Quindi alla Moto3 sarai con un nuovo team? Di me 35-70 Racing Team sarei. Gli altri due italiani sono della zona? Sì uno è della zona di Montorio, Lorenzo Petrarca che fa il mondiale. Ed è un tuo amico, vi conoscete, correte insieme? Noi ci siamo conosciuti con le minimoto e poi siamo diventati amici molto stretti e ci alleniamo sempre insieme con il motard, il flat, siamo sempre insieme il fine settimana. E il terzo componente di questo nuovo team? Stefano Valtolini. Che è stato protagonista di un famoso talent? Motorhome. Su MTV? Sì. Cosa ti aspetti per questa nuova stagione? Più andrò avanti con i nuovi test e più deciderò quale sarà il mio obiettivo per questa nuova stagione. Però diciamo quello principale è quello di fare esperienza con le nuove piste in Spagna, in Francia dove non ho mai girato. Quindi di queste nuove piste quante saranno delle piste nuove per te? Su quante non hai mai corso? Cinque. Cinque nuovi tracciati. Valencia, Aragon, Barcellona, Jerez e Le Mane. Bene, noi auguriamo tanta fortuna a Stefano Nepa per questo nuovo campionato. Ricordiamo la Moto3 a soli 14 anni. E siamo qui con il team manager di Stefano Nepa, Adriano Nepa. Ciao Adriano. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, Adriano, quali sono state le difficoltà nel portare un talento come Stefano a livello nazionale e ora finalmente alla Moto3? Ma non parlerei di difficoltà, quanto di certamente duro lavoro, un lavoro importante sia da un punto di vista fisico che mentale. Non diciamo che fare il salto in Moto3 non è uno scherzo, cominciano ad essere moto molto potenti e quindi non parlerei di sacrifici ma quanto appunto di un metodico e importante lavoro. Allora abbiamo già parlato con Stefano, abbiamo visto che concilierà la vita diciamo da studente, lui fa l'istituto tecnico, con la Moto3. Ora, in famiglia, perché ricordiamo che lui, oltre a essere il team manager di Stefano Nepa, è anche lo zio di Stefano Nepa. Quindi, la famiglia come ha preso questa notizia? Lui corre con le moto da quando era bambino, ma ora diciamo che ha fatto un salto di livello. Questa transizione come è stata presa dalla famiglia? Ma, come tutte le novità, bisogna organizzarsi, dopodiché vengono prese nella giusta maniera. D'altronde, il salto alla Moto3 era già nell'aria dallo scorso anno, per via di tutte le sue ottime prestazioni. Basta ricordare che a 12 anni è stato uno dei più giovani campioni italiani a vincere il titolo della Premoto3, tra l'altro il suo esordio. Lo scorso anno, nel 2015, non ha bissato il successo per alcune problematiche, ma comunque è stato uno dei più forti in Italia, arrivando secondo in campionato. Quindi, il passaggio in Moto3 era già, diciamo, per noi della famiglia, pensato e fortemente voluto già da tempo. Questo ci ha permesso appunto di organizzarci un po' con tutto, non solo con la scuola, ma anche con tutta l'organizzazione per fare questo importante passaggio. Cambia anche il team. Come mai questo cambiamento? Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questo nuovo team? Sostanzialmente il nuovo team è il Team Italia, ma la giusta denominazione è il 3570 Racing Team, per dare il giusto merito anche a chi sostiene questi progetti così importanti. Il nuovo team è stato fortemente una scelta condivisa con la famiglia, quindi con me, con mio fratello, che è il papà di Stefano, che è una figura fondamentale nel processo di crescita sportiva che ha avuto Stefano negli ultimi anni, unitamente alla federazione, perché il Team Italia è il team che fa capo poi alla federazione motociclistica italiana. Una scelta ponderata, pensata e riflettuta dal fatto che la federazione ha sempre sostenuto Stefano, sin dagli esordi con le minimoto, sotto varie forme. E quindi il Team Italia e il 3570 Racing Team è una naturale evoluzione nel suo processo di crescita sportiva. Sarà sempre affiancato nella gestione sportiva dalla famiglia, quindi da me in modo particolare, da mio fratello il papà Sandro e dall'altro mio fratello Alfonso, quindi una gestione diciamo tra virgolette familiare, però con il supporto dei tecnici del Team Italia, come capo tecnico Stefano Riminucci e poi di tutta la struttura tecnica appunto della federazione motociclistica italiana. E cosa non meno importante, forse quella fondamentale, il fatto di averci messo a disposizione, il Team Italia di averci messo a disposizione un mezzo molto competitivo, ovvero la Mahindra MGP30 che è la stessa moto con la quale nel 2015 ha corso il mondiale Moto3. Allora parliamo di una nuova moto, una moto indiana mi pare di capire? È un marchio indiano ma possiamo dire tecnologia completamente italiana, il quartier generale della Mahindra è a Varese, è stata sviluppata da ingegneri e da mano d'opera, diciamo così completamente italiana, quindi possiamo dire sì, è un marchio indiano ma ha la bandiera tricolore ben in vista sulla carena. Mahindra Racing oramai è un marchio che accompagna il Team Italia già da due stagioni, quindi è una normale, una naturale prosecuzione, quindi questo è il terzo anno che il Team Italia corre con Mahindra, questo depone in maniera positiva perché comunque i tecnici già conoscono molto bene, hanno avuto modo di approfondire a livello tecnico e sfruttare al massimo la forza e la potenza tecnica della moto e quindi Stefano si è ben adattato nei primi test che abbiamo già fatto e questo è molto importante. Si è ben adattato a questi primi test, quindi quali sono le aspettative? Sì, Stefano in realtà avrà un doppio impegno quest'anno, che è quello più importante appunto la partecipazione al FIMCEV Repsol, campionato del mondo junior, che si svolgerà in tutta Europa, ma per diciamo in un certo senso onorare al meglio la partnership e la collaborazione con la federazione motociclistica italiana, non di meno parteciperà al CIV, al campionato italiano velocità, quindi sarà un doppio impegno, saranno complessivamente circa 12 gare durante tutta la stagione, la prima che partirà ad aprile da Valencia e poi invece la prima in territorio italiano a Vallelunga il 14 di maggio. Aspettative che dirti? Sarò onesto, non ne abbiamo grandi aspettative perché sarà uno dei più giovani, forse il più giovane a partecipare perché Stefano è nato di novembre e penso che sia il più giovane. Però anche negli anni precedenti ci ha stupito con delle prestazioni superlative. Ricordo ancora una volta la vittoria al campionato italiano al suo primo anno in Premoto 3 e probabilmente nessuno avrebbe scommesso un euro sulla sua vittoria finale e poi ha stupito tutti proprio con questa grande prestazione. Quindi da un punto di vista di aspettative diciamo nulla, facciamogli fare esperienza, facciamolo crescere in tranquillità anche perché ha veramente, di solito si dice per retorica, ma in questo caso ha veramente un po' di anni di star tranquillo e maturare nella giusta maniera. Però da un certo punto di vista vi dico che secondo me ci farà divertire.